Allora, eccoci qua sempre dall'oratorio dopo il termine della diretta streaming. Siamo qua con Ermete Realacci, che è il presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. Allora, noi volevamo chiedere dunque, la Green Economy può essere uno strumento importante anche in ottica di occupazione? Se noi guardiamo l'Italia negli occhi, non la guardiamo con gli occhi magari delle agenzie di rating o con gli occhi distratti di una vecchia politica, c'è un'indagine che è stata condotta dalla Fondazione Sibola e da Union Camere sull'economia attuale e si è vista da questa indagine che più di un quinto delle imprese italiane dall'inizio della crisi hanno investito in Green Economy, intendendo per Green Economy non solo risparmio energetico, fonti rinnovabili, raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche in generale salvaguardia dell'ambiente, riduzione del consumo di materie prime, di acqua, prodotti e tecnologie a minore impatto sull'ambiente. Ebbene, queste imprese sono quelle che nella crisi hanno ottenuto dei risultati migliori, sono quelle che esportano di più, innovano di più, producono più posti di lavoro. Quest'anno il 60% dei posti di lavoro prodotti in Italia, nuovi, hanno a che vedere con aziende che hanno fatto investimenti in Green Economy. Questa percentuale arriva al 70% nel settore di ricerca e sviluppo. E' chiaro che questa è un po' anche una maniera concreta di vedere la missione dell'Italia nel mondo. Noi siamo forti quando facciamo l'Italia, quando incrociamo natura, storia, cultura, bellezza, con innovazione, qualità, Green Economy. Quello è il nostro spazio nel mondo. Se imitiamo i modelli di altri, perdiamo. Per quanto riguarda invece il rischio idrogeologico di cui soffre l'Italia, è previsto qualcosa? Quali misure nel decreto sblocca Italia? Nello sblocca Italia sono previste delle misure che semplificano le azioni da farsi, perché uno dei problemi che abbiamo avuto nel passato è stato quello di un blocco delle opere dovuta a incapacità dell'amministrazione, ma anche a far ragionosità burocratiche. Finalmente si è cominciato a invertire la rotta, per carità non è semplice, perché noi veniamo da anni e anni e anni di una gestione sbagliata del territorio, in cui abbiamo perfino perso saperi antichi. A volte, se uno va a vedere la nostra storia, scopre che i Borboni, i Granducchi di Toscana o la Repubblica Veneta gestivano le acque meglio di noi, a volte con regole un po' spicce. Ancora oggi al Palazzo Ducale di Venezia c'è un'immagine che mostra chi tradiva la patria gestendo male le acque, perché era considerato il tradimento della patria, nella Repubblica Veneta ovviamente, e questo signore viene punito con metodi non proprio montessoriani, ci sono i suoi quattro arti regati a quattro cavalli e si capisce qual è il passo successivo. Ma al di là di questo c'è un problema, bisogna cambiare rotta e bisogna farlo non quando ci sono queste emergenze, perché allora sembra che sono tutti d'accordo, ma bisogna farlo nella politica ordinaria. Io vorrei ricordare che mica nel secolo scorso, ad agosto, la Regione Campania ha cercato di riaprire i termini di sanatoria per l'abusismo edilizio, una Regione in cui sono state costruite 60.000 case abusive negli ultimi anni e ancora oggi l'idea che ci sia uno sviluppo legato alla speculazione, al consumo di territorio, per fare un esempio di segno diverso, la Regione Liguria aveva varato una norma per cui si poteva costruire fino a 3-5 metri dall'alveo dei fiumi. Insomma, sono cose che vanno cambiate, vanno cambiate perché hanno sbagliato prima, lo sono ancora di più oggi, perché è evidente che siamo anche di fronte a un intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi. Quest'anno è uno dei più caldi degli ultimi 150 anni e in Italia, paese che è esposto, perché siamo circondati dal mare, ai fenomeni meteorologici estremi, ci dicono i climatologi che negli ultimi 20 anni si sono moltiplicati per nove volte le cosiddette bombe d'acqua. Quindi c'è un problema in più per affrontare seriamente questa questione che chiama tutti a fare la propria parte, perché è un problema non solo di non fare scelte sbagliate, prima cosa, non la cementificazione del territorio, non solo di fare le opere che servono veramente e farle in tempo, non metterci decenni, ma c'è un problema anche poi di un'opinione pubblica più informata e più attenta, perché c'è un problema anche sulla protezione civile. Noi abbiamo un eccellente sistema di protezione civile, uno dei migliori del mondo, per quanto riguarda l'intreccio fra Stato e volontariato, quando c'è una disgrazia, una tragedia, ma in Italia troppa gente muore quando ci sono alluvioni. E' accaduto anche negli scorsi giorni, perché è in macchina quando c'è un alluvione. Questo non è possibile. Questo vuol dire che i cittadini non sanno cosa fare, le istituzioni non fanno arrivare informazioni ai cittadini e troppa gente muore in maniera inaccettabile per un paese come l'Italia.